Gli incarichi legittimi affidati da Fincalabra e finiti al centro dell'indagine della procura di Catanzaro furono frutto dell'iniziativa del presidente di Fincalabra, Umberto De Rose. E' quanto sostiene il GUP di Catanzaro Assunta Maiore nelle motivazioni della sentenza con cui, al termine del rito abbreviato, ha assolto i membri della commissione esaminatrice Sergio Campone, Giuseppe Frisini, Vincenzo Ruberto e i membri del CDA Antonio Idone e Leonardo Molinari. Al centro dell'inchiesta ci sono i contratti a progetto affidato a Lori Gentile, figlia del senatore del nuovo centrodestra Tonino, a Paolo Ambrosio e Giuseppe Genise e la consulenza concessa ad Antonio Gentile, figlio del parlamentare Cosentino. L'inchiesta aveva avuto inizio dopo la denuncia dell'allora presidente della commissione di vigilanza del Consiglio regionale Chizuniti. Il GUP, accogliendo la tesi dell'accusa, ha ritenuto che Fincalabra sia un braccio operativo della regione e, in quanto tale, tenuto all'applicazione della regola della selezione pubblica e del concorso per la selezione del personale. Per questo il GUP ha ritenuto sussistente, rinviando a giudizio De Rose, l'ipotesi di reato relativa ai tre contratti a progetto stipulati con soggetti non selezionati dalla short list, senza i requisiti preliminari e senza che venisse effettuato il colloquio come per gli altri aspiranti e assunti.